Dettati medianici, nuove ipotesi del crescere, in cammino verso la luce, centro spirituale frattocchie, edizione privata, parole di una entità di grande luce. «Si nasce per morire e si muore per vivere, poi il nulla. Il nulla sembra a voi, menti umane, al primo ascolto, la negazione dell'esistenza. Il nulla rappresenta soltanto la negazione della materia e quindi il tutto spirituale».